Un silenzio imbarazzante e gelido ha accompagnato l'intervento che il commissario ad acta per la sanità e presidente della regione molise Paolo di Laura Frattura ha tenuto nel corso di un convegno organizzato dall'ordine dei medici presso il palazzo della ex gioventù italiana del Littorio, GIL per brevità. Tema dell'iniziativa il servizio sanitario nazionale e l'organizzazione regionale dei servizi sanitari. Quale modello per il Molise? Argomento, visti i tempi che corrono e le facce che li rappresentano, di stretta ed esplosiva attualità. Sono ormai mesi che va avanti l'opera di smantellamento del servizio sanitario pubblico ordita dal commissario ad acta e attuata attraverso il piano operativo straordinario e i relativi provvedimenti collaterali come l'atto aziendale. Una logica occhiuta e ragionieristica, quella mutuata da frattura attraverso le imposizioni passivamente accettate dal tavolo tecnico nazionale e sposate appieno dal gruppo dirigente che insieme al commissario ad acta sta imponendo ai molisani. A rimproverare scelte procedure autoritarie è stato Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale dei diritti del malato, che ha ricordato a fratture soci come quello previsto dalla Costituzione sia il diritto alla salute e non al pareggio di bilancio, obiettivo che invece sta animando tutte le scelte di frattura, compresa quella di accendere mutui da centinaia di milioni. Durissimo è stato l'affondo di Aceti quando affidandosi alla settica regola dei numeri ha mostrato una tabella riferita all'indice di equità e capacità di risposta del servizio sanitario ai bisogni della salute. Il Molise con un indice del 3,6% e penultimo nella graduatoria nazionale. Peggio con il 3,2% solo la Calabria, regione di provenienza del direttore generale dell'ASREM Molise, Gennaro Sosto. Quest'ultimo presente al convegno era accompagnato da tutto lo Stato Maggiore della Sanità Molisana al completo, dal direttore sanitario dell'ASREM Antonio Lucchetti, da quello amministrativo l'ex capitano dei NAS Antonio Forciniti e dal direttore generale della salute della regione Molise Marinella D'Innocenzo, tutti provenienti da fuori regione, tutti voluti da frattura, tutti pagati a peso d'oro. Ma la scena principale è toccata a lui il commissario ad acta che ha sciorinato numeri come se dalla bocca gli cascassero dei sassolini trattenuti a fatica, una cantilena che è stata accolta da un silenzio a tratti agghiacciante e a tratti imbarazzato. Alla fine dell'intervento nemmeno un applauso, d'altra parte non ci si poteva attendere altro, vista la sordità di un presidente commissario il cui unico interlocutore è rappresentato dall'immagine di se stesso al mattino allo specchio nell'atto di radersi la barba. La riforma frattura è stata realizzata senza il coinvolgimento degli operatori e dei cittadini e questa l'altra dura critica venuta dal tribunale del malato. Di parere contrario il direttore della salute Marinella D'Innocenzo, il cui unico interlocutore, probabilmente come per frattura, deve essere se stessa al mattino allo specchio, al momento del trucco.